è una strana goccia inesistente fermi fermi benvenuti e bentornati sul mio canale questa è la seconda puntata della mia serie dedicata a questo posto spaventoso mi raccomando prima di guardarvi il video iscrivetevi al canale mettete like e aspetto i vostri commenti qua sotto e poi c'è ancora un ma qua non c'è niente di là ci siamo andati non c'è niente vai ok Grazie a tutti. 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 Sei qua? Grazie a tutti. Se sei qua, tocchi quella cosa? Grazie a tutti. Sei tu che hai fischiato? Grazie a tutti. Ho sentito qualcosa? Non abbiamo capito cosa? C'è qualcuno con noi? Sei qua? Con noi? Perché? sentire? Perché ti sentire? Senti? Senti? Perché sei in questo posto? ci stai? Ci stai? Ci stai girando intorno? mi dici? Mi dici come ti chiami? e io come mi chiamo? vuoi? 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 che ce ne andiamo? che ce ne andiamo? sei? sei buono? sei buono o sei cattivo? sei buono o sei cattivo? sei buono o sei cattivo? se ci sei puoi toccare quello strumento nero con la luce? sei tu che prima hai fatto i rumori? ho detto sei qui? ho detto ho detto Come ti chiami? Come ti chiami? Mi puoi ripetere come ti chiami? Mi puoi ripetere come ti chiami? Vuoi che ce ne andiamo? Come ti chiami? Come ti chiami? Sai che abbiamo un conto in sospeso? Sai? Sì, come ti chiami? Sì, come ti chiami!